Prenderà il via ufficialmente il 1 agosto, al massimo entro settembre, il progetto SPRAR a Montesilvano che prevede l'accoglienza di 161 migranti in 10 strutture sparse sul territorio comunale. Montesilvano è tra i primi comuni italiani che hanno fatto richiesta ammessi al finanziamento del Ministero dell'Interno per circa 2 milioni e mezzo di euro. Con l'avvio del progetto SPRAR si pone fine ai CAS, i centri di accoglienza in regime straordinario. Dunque verranno chiuse le strutture alberghiere sul lungomare che attualmente ospitano circa 200 migranti e che in passato sono arrivate ad ospitarne 350. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello da un lato di offrire accoglienza qualificata con numeri certi rispetto alla presenza di profughi, dall'altro di stoppare il business dell'accoglienza. Su quest'ultimo punto il sindaco Maragno ha usato parole forti, scagliandosi contro chi agita le proteste parlando alla pancia di cittadini spaventati. Ma soprattutto andiamo a sconfiggere il business dell'accoglienza, affiutato anche da qualcuno che in questi giorni, in queste ore, in culte terrore, istiga i cittadini alla protesta e che in prima persona si era dato da fare per trovare altri immobili da destinare ad ulteriori centri di accoglienza sul territorio, andando probabilmente con la precisa finalità a voler far proliferare la presenza dei profughi sul territorio. Noi diciamo stop a questo, diciamo sì ad un'accoglienza qualificata perché siamo tenuti dal governo in virtù dei nuovi accordi fatti con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ad accogliere, però diciamo noi chi accogliere, quando accogliere e soprattutto dove collocarli e come gestirli. Nella struttura Ex Artigian Luce, al centro di numerose proteste dei residenti, saranno sistemati circa 38 migranti. Meno del previsto, dice l'amministrazione comunale, perché si sta lavorando anche all'acquisizione di altri immobili con i bandi ancora aperti. Nessun profugo poi nel centro Trisi, rassicura Maragno, la struttura continuerà ad essere ad uso sportivo. Vogliamo evitare i ghetti come in via Ariosta, ha continuato il sindaco, che ha ricordato come chi verrà ospitato a Montesilvano grazie al progetto Sprar dovrà frequentare obbligatoriamente la scuola, se in età scolare, oppure prestare lavori socialmente utili. Polverizzare la presenza dei profughi sul territorio in modo tale da garantire a loro l'integrazione, da garantire ai cittadini la sicurezza, ai cittadini di riapproparsi dei propri spazi, del proprio territorio, da vivere in assoluta tranquillità, ma soprattutto utilizzando gli stessi profughi per un piccolo contributo da dare a favore dei soggetti ospitanti attraverso dei lavori gratuiti.